Più di tremila anni fa, un uomo di nome Giobbe andò da Dio a lamentarsi di tutti i suoi problemi. E secondo la Bibbia Dio rispose, sei tu che dai al cavallo la forza, che gli vesti il collo di una fluente criniera. Sei tu che lo fai saltare come la locusta, incutere terrore con il suo inferno nitrito. Raspa impetuoso la terra, esultando della sua forza e si slancia nella mischia. Sprezzante di paura nulla teme, non indietreggia davanti alla spada. Contro il suo fianco sbatte la faretra e la folgorante lancia la freccia. Con fremente furia devora la terra. Non sta più fermo quando suona la tromba. Che акzina è una persona, ma sono sempre la scuola. Ma non si può fare far 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 far. Ma non è sostanzare come la scuola. Nostra 3, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.